le strambate dei ragazzi della Barcolana Foil eccoli qua, volare sull'acqua a mezzo metro sopra le onde in boa le manovre sulla boa gialla predisposta dalla società velica di Barcola e Grignano e poi via sull'altro lato, seguiamo questi scampoli di regata così in maniera diciamo un po' turistica perché chiaramente non siamo in grado di darvi i nomi dei protagonisti ma sicuramente siamo in grado di fornirvi le eccezionali immagini di questo spettacolo di questa evoluzione della vela che ha portato la novità anche in Coppa America eccoli qua, vedete caschetto, muta da sub, maglietta e massima velocità pensate che stiamo andando a tutta con il gommone, siamo praticamente fianco a fianco con questi funamboli della vela come è andata stamattina con la Barcolana Foil? bene bene, c'era un bel vento, siamo usciti prestissimo e abbiamo fatto bene perché sta già calando un po' insomma che spettacolo, andavate a velocità incredibili? sì sì, non era male, si andava bene, c'erano delle belle raffiche all'inizio magari anche un filo troppo forte perché noi avevamo il monotipo tutti uguali ed era un pelino grande magari all'inizio poi è stato perfetto a metà e adesso comincia ad essere un po' leggero tu sei? Andrea Ferin benissimo Andrea, complimenti e buona Barcolana grazie, anche a voi ciao 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 ciao